buongiorno a tutti allora 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 dopo avervi fatto le news con le due serie di bidine andiamo di col news ragazzi miei andiamo andremo a parlare di una un action movie diciamo che è uscito lo scorso 22 luglio e che magari qualcuno di voi ha visto qualcuno di voi non ha visto ci sono un po di curiosità su questo action movie di cui posso tranquillamente fare anche qualche spoglierino visto che ormai è uscito già da più di sei mesi poi andremo a parlare di ricordi perché hanno scoperto una cosa sui ricordi sui ricordi belli e brutti eccetera eccetera parleremo di questo di ricordi i ricordi della mente i ricordi del cuore eccetera 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 poi parleremo anche di un particolare scudo uno scudo uno scudo ma non è uno scudo di quelli di capitano america eccetera uno scudo un po diverso ecco uno scudo astronomico diciamo così e poi parleremo di universo universo in generale eccetera eccetera perché ci sono delle cose curiose che ogni due per tre scoprono qualcosa ragazzi miei quindi ne parleremo ma partiamo con questo action movie allacciate le cinture di sicurezza perché the gray man gray scritto gray non grigio gray gray ma gray man è un action lanciato ad altissima velocità il collo san da 200 milioni il più costoso nella storia di netflix è arrivato sulla piattaforma lo scorso 22 luglio anticipato dall'uscita in sala in sala in sale selezionate dal 13 luglio scorso diretto dai fratelli russo quelli che hanno anche diretto avangers in game vanta un castellare capitanato da ryan gosling libidine con chris captain america evans anna de armas grande libidine tra l'altro lana de armas che è una topa io l'ho conosciuta tra virgolette in ispanica o ispagnola ispanica ispagnola che è un film sull'antica roma quando conquistò la spagna e lei faceva una un abitante della spagna catturata dai romani eccetera eccetera però quella serie lì non è mai arrivata in italia c'è il spagnolo di tanto su youtube trovi qualche immagine e devo dire che e poi l'ho vista in un altro film che era bugie gra grosse bugie qualcosa di simile che era un film sulla droga per intenderci poi abbiamo oltre ad anna de armas libidine billy bob torton e regé james page il duca di bridgerton la storia si snoda in un intricato labirinto di cospirazioni e crimini in quella zona grigia dell'ombra come recita anche il titolo dell'omonimo romanzo ma io sapevo che grey si scriveva con la e però magari mi sbaglio io non mi ricordo bene comunque grey man l'uomo grigio allora come recita anche il titolo dove operano impunemente agenzie governative e organizzazioni malavitose il collegamento zoom zoom l'ho utilizzata per fare un corso di quello di segreteria aziendale zoom tra l'altro il cast e i registi commentano durante un incontro con la stampa internazionale questo viaggio al cardiopalma assolutamente imperdibile e gli condomandano prima domandina qual è la formula del film e antoni russo spiega il progetto parla di argomenti incredibilmente attuali con personaggi divertenti sì ma che si interrogano su tematiche esistenzialistiche pensiamo sia quel genere di film che per il pubblico di netflix funziona alla grande gli hanno chiesto ha richiesto uno sforzo produttivo impegnativo ma anche una bella dose di fatica fisica vero punto di domanda e a questa domanda risponda risponde l'attore ryan gosling gli stunt si meritano un immenso ringraziamento sono stati cruciali per mettere in scena diversi stili di arti marziali e con consulenti tecnici sempre sul set mi sono sempre sentito guidare nella giusta direzione ci sono molte ma proprio molte corse chris evans ha aggiunto la parte migliore con registi così è un piacere correre dei rischi piccola nota di contorno dei giornalisti stavolta le donne non sono solo contorno ma protagoniste assolute della scena cosa ne pensa e a questa domanda risponde ana de armas non solo ero elettrizzata all'idea di lavorare ancora con ryan e chris ma il copione era talmente pazzesco che mi sarebbe stato impossibile rifiutare ad essere onesta non è che avessi questa agenda di impegni così piena e comunque non mi sarei mai potuta lasciare scappare un ruolo di una donna senza paura e che spacca i bip ci siamo capiti domandina domandina al quale alla quale risponde invece billy bob torto la domandina è questa quale interrogativo si è posto prima di approcciarsi al suo personaggio e queste sono le parole di billy bob torto il mio il mio donald fitzoy è una spia di alto livello che si occupa di prendere decisioni molto delicate ti chiedi come sia possibile far bene il proprio lavoro pur restando una mano umano proteggere le reclute con fare quasi paterno in alcuni momenti e lo capisco su a questa domanda ha risposto anche rege james page il mio danny karmicol karmicol mi ha lasciato spesso interdetto mi sembrava incredibile che facesse quello che faceva o che fa non voglio fare spoiler ma è incredibile e poi diciamocela tutta passare al lato scuro mi ha divertito è elettrizzante non avere limiti e barriere come invece capita all'eroe non a caso al mio personaggio scespiriano liberatorio referito liberatorio referito resta iago lasciare a briglia sciolta il lato perverso è liberatorio domanda dei giornalisti al quale risponde ryan goslin comunque questo action mescola dramma e commedia come si calibrano i toni e ryan goslin ha detto innanzitutto fai un lavoro di preparazione diverse parli molto a lungo con i colleghi per poter collaborare seriamente e attuare insieme un'evoluzione reale sia di umorismo che di action anna de armas ha voluto dire anche lei la sua e ha detto i primi giorni a me sembrava di andare in giro sul set in maniera scomposta come una gallina scomposta e scoordinata ma poi sono migliorata mi ripetevo che avevo una missione da compiere che ne andava della mia vita ma sapevo che attorno a me la gente che era ignara del pericolo e continuava a fare il suo lavoro d'ufficio come se nulla fosse mi piace che denny miranda debba essere sempre tra tre passi avanti agli altri e in qualunque decisione si tratta solo di fare o meno la cosa giusta ha concluso poi a questa domanda rispondendo billy bob thornton con queste parole la leggerezza con cui ad esempio il mio personaggio bilancia le cose assurde che per lavoro è costretto a vedere non lo rende necessariamente un bad guy però non lo rende necessariamente un cattivo ragazzo infine la domandona a uno dei registi che Joe Russo risponde prima Anthony adesso Joe Russo risponde a questa domanda che è quella classica dopo un bel film uno si aspetta che ci sia anche una seconda stagione un sequel un qualcosa e infatti la domanda è proprio possiamo sperare in un sequel e Joe Russo ha detto questo universo narrativo ha moltissime possibilità quindi che sia un prequel o un sequel a noi andrebbe bene tutto contate su di noi quindi è probabile che questo film appunto The Grey Man The Grey Grey Man che adesso vado a vedere la traduzione perché signori a me sembra che Grigio si scriva in maniera diversa comunque andiamo a vedere The Grey Man no aspettate The Grey Man no devo andare il traduttore è perché mi è venuto il dubbio poi la mia prova di inglese mi picchia perché vedevo andare a vedere la traduzione di The Grey Man però ragazzi miei a me sembra che Grigio si scrivesse in maniera diversa quindi adesso andiamo a vedere The Grey Man e il traduttore vediamo se mi dice qualcosa di giusto o se fa come i navigatori che ti spediscono in mezzo al lago The Grey Man ecco se però non è il miau l'uomo grigio l'uomo grigio l'uomo grigio colpa mia colpa mia colpa mia chiedo venia Grey è grigio The Grey Man è l'uomo grigio ok dopo aver appurato questa cosa qui andiamo avanti perché signori miei i ricordi cosa sono i ricordi identificata la molecola che classifica i ricordi in belli o brutti associandoli a emozioni positive o negative si chiama neurotensina ed è un neurotrasmettitore presente nel cervello la scoperta pubblicata sulla rivista Nature è stata guidata dal Salk Institute di Lagiola Laiola in California il team di ricercatori guidata da A.O. Lee un classico ragazzo americano studioso americano ingegnere americano quello che volete ha utilizzato nei topi una tecnica di ingegneria genetica che consisteva nell'eliminazione in modo selettivo del gene per la neurotensina primi di questo neurotrasmettitore i topi non riuscivano ad assegnare sensazioni positive ai ricordi diventando più bravi a etichettare quelle negative stando ai risultati il cervello è più incline a orientarsi verso la paura retaggio di una prospettiva evolutiva questa emozione protegge da situazioni potenzialmente pericolose i ricercatori hanno poi dimostrato che alti livelli di neurotensina migliorano l'apprendimento e limitano la tendenza ad associare gli stimoli con sensazioni negative sostanzialmente abbiamo ottenuto un controllo sul processo biologico fondamentale che permette di ricordare se qualcosa è buona o cattiva dice kai tie uno degli autori dello studio si tratta di qualcosa che è fondamentale per la nostra esperienza di vita continua tai tie tie scritto t torino york e e l'idea che possa ridursi a una singola molecola è incredibilmente eccitante esistono alcune persone più propense a conservare le emozioni negative invece che quelle positive tramite questa scoperta sarebbe possibile comprendere meglio i motivi di questo processo passi in avanti inoltre per nuovi approcci terapeutici a disturbi come ansia depressione disturbo da stress post traumatico allora si dice si dice no che quando finisce una storia d'amore tendenzialmente quello che ci è rimasto sotto come si suol dire perché non sempre è una cosa reciproca no magari due persone si rendono conto siamo diventati come fratello e sorella non abbiamo più niente da dirci non abbiamo non riusciamo più a essere come come prima amici come prima lasciamoci è stato bello magari finissero sempre così le storie d'amore spesso e volentieri chi viene lasciato ci finisce sotto ecco per intenderci e quindi anche le cose belle della storia che magari sono anche l'ottanta per cento del totale della di tutta la storia che c'è stata questa persona tende a ricordare solo quel 20 per cento di negativo eliminando tutto il resto quindi come dicono loro ci si ricorda di più le cose negative che non le cose brutte anche per una questione di autodifesa e tutto quanto vabbè lasciamo perdere le cosine queste qui la molecolina la molecola questo neurotrasmettitore la neurotensina la lasciamo da parte e andiamo a vedere che cos'è questo enorme scudo che protegge la terra dalle comete pericolose un enorme scudo protegge la terra dalle comete pericolose punto di domanda la cometa leonard è passata con la sua enorme coda per l'ultima volta pochi giorni fa ed è stata espulsa dal sistema solare per sempre pochi giorni fa no lo scorso luglio il 3 gennaio 2021 l'astronomo greg leonard ha rilevato un lontano visitatore del sistema solare esterno in avvicinamento al centro del sistema solare si trattava di c slash diciamo slash barra che mettete quello 2021 a 1 leonard la cometa più luminosa del 2021 dopo aver percorso un lungo cammino iniziato circa 35 mila anni fa quando era al di là di nettuno la cometa leonard ha sperimentato il punto più vicino della sua orbita rispetto alla terra a metà dicembre del 2021 quando è stato possibile osservarla prima dall'alba con un binocolo o telescopio molti di coloro che leggono le notizie spaziali hanno notato un insolito interesse da parte degli astronomi per venere avvenuto prima del nuovo anno e durato diverse settimane la trama principale delle storie era l'insolito a lune di arcobaleno attorno a venere poiché venere è un pianeta dovrebbero esserci delle fasi questo è comprensibile e ovvio è incomprensibile che queste fasi iniziassero ad essere osservate ad occhio nudo nonostante 50 anni fa queste fasi fossero difficilmente visibili con un potente telescopio tutto ciò ha creato una nuova sfera di discussione è stata espressa l'idea che venere si sia avvicinata che non è venere ma nibiru che si atteggia a venere e così via fiction tuttavia a capodanno sono state del 2021 non di quest'anno sono state osservate cose ancora più strane vicino a venere un enorme oggetto misterioso che fugge dal gigantesco campo protettivo che protegge la terra dalla cometa leonard come si dice dal video compilato dall'immagine ufficiale della nasa durante il passaggio della cometa leonard attraverso venere qualcosa di simile alla ruota di ezechiele si è spostato verso la terra dopodiché si è formata una sorta di schermo protettivo tra la cometa leonard e la terra o tra terra e venere inoltre si è formato con precisione certamente non è apparso all'improvviso poiché tutte le fasi della sua crescita possono essere tracciate su fotografie nell'autore del canale negli spettatori sbalorditi che hanno visto il video sanno di che cosa si tratta la maggior parte delle volte si afferma che questo scudo sia stato installato da extraterrestri avanzati per proteggere la terra da una nuvola di detriti che volava insieme alla cometa secondo un'altra versione questo scudo e scudi simili sono sempre appesi intorno alla terra solo i frammenti della cometa mostravano questo scudo ma allora cosa ci fa questo scudo nello spazio punto di domanda e a proposito perché venere sembra avvicinarsi sempre di più e possiamo vedere le sue fasi senza telescopi speriamo che non si avvicini troppo e non entri in rotta di collisione perché se facciamo un incidente con venere salutiamo ma proseguiamo e stiamo sempre nell'ambito universo vi sono ancora tantissime scoperte da fare sull'universo talmente vasto da riservare continue sorprese è stato appena scoperto infatti o meglio sei mesi fa perché è la notizia del luglio del 2022 da un equic di esperti internazionale un enorme buco nero di massa stellare dormiente situato nella grande nube di Magellano appena fuori la nostra galassia la via Lattea che sapete la via Lattea pubblicato sulla rivista Nature Astronomy lo studio è stato portato avanti in sei anni di osservazioni fatte con il Very Large Telescope dello European Southern Observatory situato in Cile leggiamo su Global Science i buchi neri dormienti si formano quando le stelle massicce con almeno 5 masse solari terminano la propria vita e collassano a causa della propria gravità nonostante siano ritenuti molto diffusi questi oggetti sono assai difficili da individuare emettono infatti bassi livelli di raggi X la lunghezza d'onda attraverso la quale questi buchi neri vengono in genere rilevati da qui il nome dormienti ha confermato Tom Harshenar alla guida dello studio la stella che ha formato il buco nero VFTS 243 sembra essere completamente collassata senza alcun segno di una precedente esplosione il nostro studio fornisce probabilmente una delle indicazioni più dirette con enormi implicazioni sull'origine della fusione di buchi neri nel cosmo come ricercatore che ha smentito diversi potenziali buchi neri negli ultimi anni ero estremamente scettico riguardo a questa scoperta ma non siamo riusciti a trovare una spiegazione plausibile per i dati in nostro possesso che non coinvolgessero la presenza di un buco nero il buco nero ha appena scoperto almeno 9 volte la massa del nostro sole e orbita intorno a una calda stella blu che pesa 25 volte la massa del sole similitudini probabilmente incomprensibili per noi comuni mortali ma non per questo meno affascinanti bene ragazzoli cinema buchi neri curiosità varie comete il gigione vi parla sempre di tante belle cosine non sono mica bao bao micio micio però purtroppo sono cose che interessano a pochi voi preferite quelli che si mettono le dita nel naso eccetera 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 capisco che queste cose qui possono anche annoiare eh vabbè però io cerco di fare informazione sono diversamente giovane non mi posso smettere a fare l'imbecille sempre anzi adesso nei prossimi video faccio un po' lo sciocchino con i due pretini detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao